Ciao ragazzi, il naturopata si occupa di prevenzione, educazione e promozione della salute, oltre che individuale, anche sociale e ambientale. Ed è proprio su quest'ultimo punto che voglio soffermarmi oggi. Dobbiamo parlare di ambiente perché è un problema troppo importante, abbiamo creato dei disastri, dei disagi a tutto quello che ci circonda e dobbiamo per forza iniziare a agire subito, perché secondo me siamo veramente quasi ad un punto di non ritorno. Perciò dobbiamo subito muoverci. Quali sono le cose che possiamo fare subito nell'immediato? Diciamo che due cose fondamentali sono consumo responsabile e cittadinanza attiva. E ora vi spiego che cosa intendo. Consumo responsabile cosa vuol dire? Che quando andiamo al supermercato possiamo iniziare già da lì a fare attenzione acquistando roba che ci faccia poi fare meno spazzatura possibile. E in questo caso subentra la regola delle tre R che dobbiamo seguire per l'ambiente. E cioè riduzione, riutilizzo e riciclo. Riduzione, come vi dicevo poco fa, lo facciamo già al supermercato, cercando di acquistare prodotti che abbiano meno packaging possibile. Un esempio che mi viene da fare sono le mozzarella. Questa cosa mi è rimasta impressa perché io vedo le mozzarella e sono sia singole, incartate, posso prenderne una, due, tre, quattro, quante voglio. O altrimenti ce ne sono tre che sono singolarmente impacchettate e poi hanno un altro packaging attorno. In questo modo abbiamo solo creato più spazzatura. Il costo invece è uguale. Perciò cerchiamo di ridurre al minimo la spazzatura che andiamo poi ad immettere di nuovo in circolo. Cerchiamo di riutilizzare e l'esempio del riutilizzo potrebbe essere con il tonno. Noi conosciamo, perché appunto quelle che vanno un po' di più sono le tre scatolette di tonno in latta e poi fuori c'è anche la confezione in carta. Magari compriamo quello in vetro, la stessa quantità di tonno, forse anche un po' di più, il prezzo anche più o meno è uguale e riutilizziamo il boccettino di vetro. E possiamo riutilizzarlo in tantissimi modi, quindi non solo in cucina, con le conserve, con le marmellate, insomma con qualsiasi cosa, ma anche in casa. Metto dei bottoni, metto dei chiodi, per qualsiasi cosa. L'ultima R che mancava era il riciclo e questo anche lo facciamo quando andiamo a fare la spesa. Cerchiamo di comprare prodotti che siano riciclabili, quindi che possiamo riciclare, perché purtroppo non tutto è riciclabile e va a finire nell'indifferenziato, che insieme alla plastica è il problema maggiore. Un'altra cosa secondo me importantissima che riguarda la plastica sono le bottigliette, quelle da 500 ml, perché tutti le compriamo, tutti i giorni, ci viene spontaneo. E invece magari già solo lì provare a comprare la borraccia e riempire quella, cioè praticamente riduciamo tantissimo il consumo di plastica e poi si immette nel circolo vizioso della spazzatura, chiamiamolo così. Quindi tre R mi raccomando e un'altra cosa fondamentale è la cittadinanza attiva. Che cosa vuol dire? Purtroppo, soprattutto in Italia, nel nostro paese, siamo un po' omertosi e quindi se vediamo qualcuno fare qualcosa di sbagliato per strada tendiamo a non farlo notare o a non dirlo. Invece è senso civico, se vediamo qualcuno buttare a terra una cartaccia o lasciare dei rifiuti per strada, non è omertà. Noi dobbiamo per forza intervenire dicendolo sia alla persona e sia chiamando le autorità se ce n'è bisogno, perché è senso civico. Non dobbiamo preoccuparci di essere stati inopportuni o di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché sbagliato non agire, è questo che è sbagliato. Perciò, mi raccomando, cerchiamo di fare la differenza nel piccolo, nel quotidiano. Spero che possiate prendere degli spunti di riflessione da questo video e sono curiosa di sapere cosa fate voi nel quotidiano per l'ambiente. Buona serata!